Direttore, in questo numero dell'amico del popolo, coronavirus, ma non solo. Sì, non soltanto, perché cerchiamo di approfondire anche tante indicazioni che vengono da questa esperienza. A partire dai nuovi casi, dal focolaio individuato a Feltre, che indica l'importanza del tracciamento di una sorveglianza attiva e di una capacità di isolare il fenomeno, ma anche indica la necessità per tutti di essere ancora molto attenti e responsabili, di mettere in atto tutte quelle misure, quelle cautele di igiene personale, di attenzione nel rapporto con gli altri, che possono limitare il contagio. Ma tra le conseguenze di questa esperienza che abbiamo vissuto in questi mesi, in questo numero, tra le altre, mettiamo in evidenza anche un approfondimento giuridico sul fatto, su come si possono aiutare le imprese locali. Si sta aprendo una stagione di grandi appalti per la ripresa economica e c'è naturalmente la giusta esigenza di poter dare lavoro anche alle ditte locali. Come fare? L'approfondimento suggerisce che non sono possibili norme di protezione regionale a livello giuridico, ma bisogna lavorare sulla qualità, sulla specificità delle aziende locali, magari istruendo dei bandi di gara, degli appalti, che possano mettere in risalto questa specificità, questa qualità e naturalmente da parte delle imprese ci deve essere l'impegno di essere capaci di offrire un servizio specifico e di elevata qualità che altrove magari non si trova.